i punti che abbiamo noi vanno dai 15 ai 22 anni diciamo un vinto di sempre quindi quella andrà assoluta questa città la vita è una situazione di più di più di più di più di più se è anche quello che io sono scopo a soggiare quella questa è la posta assoluta la operazione a quanto vanno? questo è un'esempio di più di più di più di più di più che lavora 4, 5 e chi lavora 5 questo da 4 a 15 puoi lavorare, vedi, così vedi, c'è tutto il mistero e avete fatto lavoro su acqua l'acqua non gliel'apre, non gliel'apre, non gliel'apre adesso, non gliel'apre adesso quando stacca il spontanismo, vedi, quando stacca il spontanismo, vedi, quando stacca il spontanismo vedi, muova su, guarda come gatti guarda come gatti guarda come manca, guarda come gatti che è un'altra cosa questo è iloito che loro qua lavorano in questo libro lì nel tuo caso di scattivare acqua se io mi idete a tutti, anche qua è stata la finestra ora in questo libro Grazie a tutti.